Ho organizzato questo incontro sulla Convenzione ONU dei diritti delle persone disabili qui al Parlamento europeo per far incontrare le istituzioni europee e i territori, i territori della Liguria e non solo, un po' di tutta Italia, per discutere su come rendere effettivi reali i diritti garantiti per i disabili dalle convenzioni internazionali, dalla normativa europea, nella realtà quotidiana dei territori. Grazie alla presenza di associazioni, istituzioni, persone con disabilità abbiamo discusso di come far sì che i fondi europei non siano mai più utilizzati come è avvenuto in passato senza tenere conto dell'accessibilità, per far sì che le istituzioni pubbliche, la pubblica amministrazione sia sempre accessibile per tutti, in modo che tutte le opportunità della vita sociale, del lavoro, dell'integrazione sociale e del tempo libero per le persone con disabilità siano disponibili, conosciute per tutti. Non si può pensare che i diritti delle persone disabili siano diritti di serie B, interessi da contemperare con le esigenze di bilancio, sono diritti umani e come tali devono essere considerati. Insieme abbiamo costruito nuove sinergie per far avanzare un'agenda dei diritti di tutti. È stato un incontro molto molto bello perché siamo riusciti a confrontarci sia sulla realtà italiana e sulle esperienze delle leggi italiane, penso su tutti al dopo di noi, ma anche abbiamo fatto il punto su quella che è l'agenda europea in vista del 2020. Appuntamenti. Penso che appuntamenti come questo debbano assolutamente essere replicati per cercare di capire qual è la direzione per poter dare a tutti i cittadini italiani e a tutti i cittadini europei gli stessi diritti. Perché in fondo la disabilità è solamente uno dei tanti aspetti della vita e bisogna aiutare sempre di più i cittadini con disabilità ad accedere a diritti come la mobilità, come lo studio, come il diritto ad avere una prospettiva e a guardare il futuro e costruire in maniera autonoma e indipendente la propria vita e appunto il proprio futuro. Cosa dire di questo incontro? L'aspetto principale, quello che a me ha colpito molto è come tutta la legislazione europea sta cercando di dare risposte a quelle che sono le richieste oggi sia delle famiglie che dei ragazzi per quanto riguarda l'inclusione sociale, la possibilità di avere un lavoro, la possibilità di poter vivere una vita che non è soltanto una riabilitazione e questo è molto positivo perché è molto sentito e quindi ringrazio vivamente tutta l'organizzazione che mi ha invitato affinché proprio potessi anche io dare il mio contributo rispetto a questa linea governativa.